Dopo l'accordo sul prezzo delle mascherine FFP2 tra la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, d'intesa con il ministro della Salute, e le associazioni di categoria Federpharma, Assofarma e Farmacie Unite, il presidente nazionale di Federpharma, Marco Cossolo, rivolge un appello per una massiccia adesione da parte dei colleghi al protocollo d'intesa e li ringrazia per essersi sempre resi disponibili alle richieste delle istituzioni nell'interesse della collettività, confermando in questo modo il ruolo della farmacia, quale primo presidio sanitario di prossimità. Aderire al prezzo massimo di vendita concordato per le mascherine FFP2, prosegue Cossolo, è un ulteriore servizio che rientra pieno nell'evoluzione del nuovo modello di farmacia, una farmacia che non ha paura di cambiare perché è consapevole di essere un tassello fondamentale nel processo di territorializzazione dell'assistenza sanitaria, primo anello di congiunzione tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale.